Molto probabilmente nessuno di questi soggetti politici, tranne l'uscente Marco Zambuto, parteciperanno alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo della carica di sindaco di Agrigento, ma il dato uscito fuori dal sondaggio realizzato dalla Ipsos e commissionato dal consigliere comunale del PD Giuseppe Arnone alimenta ancora di più la già accesa discussione politica in atto nel capoluogo in vista del voto dei prossimi 6 e 7 maggio. Il sondaggio sull'indice di gradimento degli elettori in vista delle elezioni comunali vedeva in Lizza oltre ad Arnone Zambuto, Paolo Minacori, Diepolis, Roberto Di Mauro come ipotetico candidato del Movimento per l'Autonomia, Salvatore Iacolino per il PDL ed Angelo Capodicasa per il Partito Democratico. Questi candidati, come spiegano dall'Ipsos, sono le personalità politiche che al momento della stesura del sondaggio potevano sembrare più probabili candidati a sindaco per i principali gruppi politici in Lizza. Secondo il sondaggio, la scelta di voto al primo turno premerebbe Arnone dato al 31,2%, seguito da Marco Zambuto al 26%, Paolo Minacori al 16,8%, Roberto Di Mauro all'11,3%, Salvatore Iacolino al 10,6% ed infine Angelo Capodicasa al 4,1%. Sempre secondo il campione intervistato, Arnone risulterebbe il più attivo per la difesa e il rispetto della legalità, 51% contro il 9% di Zambuto, il più vicino ai problemi dei cittadini, con un 39% contro il 17% per il sindaco Sciente. La voce, quello che ha fatto di più per Agrigento in questi anni, viene invece battuto da Marco Zambuto che si aggiudica il 23% dei consensi contro il 16% di Arnone. Sull'esito del sondaggio e sulla possibile candidatura a sindaco di Giuseppe Arnone è intervenuto l'esponente regionale dell'Egambiente Mimofontana che lancia, lo stesso avvocato ambientalista, la proposta di entrare a Palazzo dei Giganti solo da sindaco, non candidandosi al Consiglio Comunale. Arnone, ha detto Fontana, è una risorsa importante per la città e occorre dare un messaggio forte agli agrigentini.